Mi auguro di vedere tutte e due le nostre nazionali al top, con il miglior team e sono sicura che sarà un'esperienza incredibile. Parigi è vicinissima, sarà davvero un palcoscenico forte, abbiamo due nazionali sia maschile che femminile di altissimo livello e non vedo la Parigi. Hai provato un po' di delusione nel vedere la stagione nazionale italiana che è stata al di sotto dell'aspettatura. Per quanto riguarda la femminile ovviamente, stai parlando? Sì, sì, una del dispiacere perché credo che ci siano stati delle situazioni che a mio avviso bisogna saper gestire. Ecco, la comunicazione, vedere le poligoni in panchina, vedere i mazzanti in difficoltà, io credo che sia stata un po' una sconfitta di team e mi auguro che queste problematiche vengano risolte perché abbiamo bisogno di vedere la miglior nazionale di un'Olimpiade che aspetta tanto da questo movimento. Quindi sono molto ottimista, sono sicura che verranno risolte tutte le problematiche che esistono in ogni ambito e quindi faccio il bocca al lupo agli staff, a Mazzanti e a tutti gli altri. Grazie. Grazie. Grazie.